ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video scusate l'assenza però sono molto veramente molto 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 impegnata in questo periodo quindi non riesco tanto a fare i video comunque vorrei ringraziare perché nonostante che non ho fatto più video siamo arrivati a 90 iscritti sul canale certo sono ancora pochi però piano piano il canale cresce dunque in questo video vi voglio far vedere il mio costume di carnevale che poi in realtà non è un vero costume perché io siccome sono adulta no per chi non lo sapesse ho quasi 28 anni però mi vesta ancora quindi in realtà non è che vado a prendere proprio il classico costume però vi faccio vedere comunque che mi metterò allora uso molto il viola questa maglia perché perché praticamente c'è questo vestito no e di lana però è a maniche corte quindi fa freddo quindi mi vesto così poi mi metterò queste calze viola poi chiaramente ci abbino queste scarpe l'ideale era pure le scarpe viola però non ne ho non ne ho e non ho neanche il tempo pensate un po per andare a comprare perché sto sempre di qua di la lavoro pittura proprio non ho tempo pensate un po che mi si erano finiti i colori per la pittura ma neanche quelli avevo il tempo per andare a comprare figuriamoci proprio impegnata al massimo cioè non ho tempo per fare video non ho tempo proprio e questa parrucca chiaramente se avete capito da che personaggio mi vestirò scrivetemelo qui sotto nei commenti se non l'avete capito verrà rivelato domani che proprio carnevale ho intenzione di fare un video più che altro di tutta la giornata di carnevale perché domani mi vado cioè vado a frangavilla un paese in provincia di chieti per chi non lo sapesse per chi magari non sa neanche dove si trova chieti vabbè comunque siamo in abruzzo in realtà fanno anche il carnevale a chieti vi dico la verità però però quando avevo tipo 22 anni l'ultima volta che l'ho festeggiata a chieti poi ho detto mai più praticamente cosa hanno fatto hanno fatto un manifesto diciamo tipo quando muore una persona in cui facevano che era morto il carnevale addirittura usavano hanno usato appunto lo spazzolone per il bagno non sto scherzando ragazzi per fare tipo la benedizione io ho visto così ho detto vi faccio il serio della croce mai più me ne vado a frangavilla infatti domani si parte molto presto da chieti perché poi bloccano le strade e non si può più partire quindi domani frangavilla e vi racconterò vi farò vedere vi porterò con me nella giornata di domani e quindi per adesso chiudo quel video ciao ragazzi grazie